Affezionati della Cucina per Tutti, bentornati qui con me per un nuovo appuntamento. Vi chiedo innanzitutto come state? State sfruttando ormai la bella stagione l'estate che è quasi alle porte facendo delle passeggiate, qualche gitarella al mare, in montagna? Io personalmente vi dico di sì. Mi sto abbastanza divertendo a fare qualche camminata, a visitare anche dei posti che qua vicino casa non conoscevo neanche. Oggi proprio perché stiamo diciamo sfruttando la bella stagione, stiamo sfruttando queste giornate di sole vi propongo proprio qualcosa che va bene per questo periodo. Tra l'altro proprio con delle verdure che ci sono in questo periodo come il cipollotto, gli asparagi e vi propongo dei paccheri asparagi, cipollotto e stracchino davvero davvero veloci e golosi da fare. Se siamo quindi curiosi di vedere quali sono gli ingredienti per realizzare questo ottimo piatto prendiamo nota così cuciniamo insieme. Io sono Chef Fabio, mettiamoci al lavoro perché i fornelli ci aspettano. Gli ingredienti per realizzare questo buon piatto sono i seguenti 500 grammi di asparagi, 100 grammi di stracchino, mezza tazzina di latte, sale, pepe bianco, olio d'oliva, qualche fogliolina di menta, l'equivalente di una bustina di zafferano o se avete anche pistilli vanno benissimo e due cipollotti freschi. Mettiamoci quindi al lavoro. Dopo aver lavato gli asparagi ci prepariamo anche un tagliere, prendiamo l'asparago e gli togliamo via la parte più dura. Come vedete dopo aver recuperato tutte quante le punte di asparago e dopo averle quindi pulite ho preparato una pentola con dell'acqua e andiamo a fargli fare una prima cottura. Nel frattempo ci prepariamo anche il cipollotto quindi andiamo a togliere tutte le parti non edibili e andiamo anche a togliere tutta la pellicina esterna. E dopo averlo pulito come vedete lo sto tagliando a rondelle. Completato l'operazione ci prepariamo una wok dove andiamo a mettere le rondelle di cipollotto appena tagliate, olio. Ora attendiamo la cottura degli asparagi ma nel mentre prima di fare il soffritto di cipollotto ci portiamo avanti con un'altra preparazione. Nella tazzina dove è contenuto il latte andiamo a mettere lo zafferano così sarà più semplice andare a fare l'amalgama all'interno del sugo che andiamo a creare. Andiamo a girare con un cucchiaino e anche con questa preparazione abbiamo terminato, andiamo a vedere a che punto sono gli asparagi. Stanno sobollendo ormai da circa 5 minuti, ora noi li andiamo a mettere sul tagliere perché dobbiamo fare solo una piccola fase di cottura e di bollitura e li andiamo anch'essi a tagliare a rondelle. Trasferiamo gli asparagi sul tagliere. Vi do un consiglio ragazzi, l'acqua di cottura degli asparagi teniamola da parte che poi la andremo ad allungare con dell'altra acqua per cuocere i paccheri. La verdura sta ancora fumando perché l'abbiamo appena tirata fuori dall'acqua, io ho cominciato a tagliarla in questo modo. Io mi sto mettendo da parte anche le due punte più belle che ci serviranno poi per l'impiattamento. Completata l'operazione andiamo a far appassire il cipollotto fresco. Accendiamo il fuoco sotto la padella, mettiamo subito una prima presa di sale. Ora che il cipollotto sta soffriggendo andiamo a mettere gli asparagi in padella. Un'altra bella presa di sale. Saltiamo. Abbassiamo la fiamma e andiamo a coprire. Lasciamo andare così per 5 minuti. Nel frattempo che il cipollotto conferisca i suoi profumi e il suo sapore all'asparago, noi facciamo questa cosa. Ho già lavato le foglioline di menta. Per tagliarle in maniera più veloce, noi le andiamo a mettere una sopra l'altra. Le arrotoliamo. Verranno fuori tipo dei ricciolini. Vedete? Andiamo a togliere il coperchio. Possiamo aggiungere un po' di pepe bianco e lo stracchino che vi consiglio di tagliare a pezzettini. E cominciamo a far amalgamare lo stracchino alle verdure. Ora che abbiamo amalgamato lo stracchino alle verdure, possiamo andare a mettere il latte con lo zafferano. Oltre a conferire, come potete vedere, un bel colore al nostro sugo, andrà a spingere un po' il sapore e verrà fuori davvero un buon connubio con le verdure. Lasciamo andare per un paio di minuti e poi spegniamo il fuoco e a fuoco spento mettiamo la menta. Spengo il fuoco e vado a mettere la menta. Ho allungato l'acqua che avevamo tenuto da parte degli asparagi, ora vado ad accendere il fuoco e appena bolle buttiamo i paccheri. Ora che l'acqua bolle mettiamo il sale, buttiamo i paccheri. Io utilizzo quelli freschi, ma potete utilizzare tranquillamente anche quelli secchi. Teniamo da parte un po' d'acqua di cottura, spegniamo il fuoco, andiamo a scolare la pasta e possiamo impiattare. Andiamo a mettere un po' di condimento. Siamo pronti per impiattare. Andiamo a prendere un po' di pepe bianco. Andiamo con i paccheri. Mettiamo il sugo. Le due punte d'asparago che ci siamo tenuti da parte. Ed un po' di menta fresca. Il piatto è pronto. Andiamo ad assaggiare. Ragazzi, ci siamo. È il momento di assaggiare questi ottimi paccheri. Vi è piaciuta la preparazione? Ora andiamo ad assaggiare e vediamo se sono equilibrati nei sapori. Allora, andiamo a prenderci questo bel pacchero bello condito. Buonissimo, ragazzi. Veramente fresca, estiva. Ci sta proprio bene in questo periodo. Tra l'altro con i paccheri freschi da banco frigo è tutta un'altra cosa, quindi ve li consiglio. Provate a farla. Scrivetemi, lasciatemi dei commenti, dei mi piace, dei pollici in su. Ci vediamo alla prossima videoricetta. Mi raccomando, state sintonizzati sempre sul mio canale YouTube. In che modo? Attivando la campanella. Da La Cucina per Tutti e da Chef Fabio. Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao, vado a finirmi questi paccheri. Grazie. La Cucina per Tutti e la Cucina per l'articolistica.